Tra le tante ricchezze in termini ambientali di biodiversità, il Molise può vantare la presenza dei rari esemplari di cavallo pentro, risultato di secoli di adattamento in ambiente ostile e a rischio di estinzione. Proprio per questo la regione Molise aveva deciso con la legge regionale 26 del 2005 di tutelare e valorizzare questa specie autoctona. Sono però numerose ad oggi le segnalazioni inviate alle autorità nel corso di questi ultimi anni che riferiscono di una situazione molto diversa, ripresa anche dalle Iene su Mediaset, in cui gli animali e il pantano sarebbero compromessi dalla malgestione del territorio. Persino il consigliere del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, ne aveva denunciato le criticità. Ma uno studio condotto dall'Università degli Studi del Molise della Facoltà di Agraria, illustrato questa mattina in un seminario nel comune di Montenero-Valcocchiara, offre un quadro più rassicurante per gli animali e per l'intero ecosistema. La popolazione equina è comunque monitorata tutti gli anni perché vengono a posti i microchip, vengono controllati i puledri. Quindi posso dire sicuramente una cosa, che degrado è una parola che in questa zona non deve proprio essere nominata. I cavalli, chiaramente è una popolazione in via di estinzione che è caratterizzata un patrimonio genetico tipico che non sarebbe tale se non vivesse in queste condizioni. Naturalmente può succedere che d'inverno qualche soggetto muoia, alcuni anni fa c'è stata una grande nevicata, ne sono morti tanti, però è la legge della natura. Il cavallo che è abituato quindi a vivere anche in un contesto diciamo di pianure libere e credo che possa ritenersi soddisfatto. Per i ricercatori e per gli stessi allevatori esiste un equilibrio naturale in cui i cavalli e la vegetazione si integrano perfettamente. Una nicchia ecologica di 2200 ettari, sottolineano gli studiosi in cui i cavalli sono liberi e affatto maltrattati. Allevare cavalli in questo sistema è il massimo del benessere per gli animali che sono liberi e soddisfatti e felici e praticamente non sfruttati affatto. Della stessa opinione il sindaco Paolo Santachiara che abbassa i toni delle polemiche sollevate dalle associazioni alimaniste e dalle iene parlando di esagerazione mediatica. Insieme all'università stiamo mettendo a punto una serie di studi proprio per migliorare quella situazione che comunque è molto lontana da quella di un danno ambientale o da una inversione degli equilibri naturali.